L'agglomerato M dell'Asia a Lentini, destinato ad ospedare i nuovi insediamenti artigianali e commerciali, versa nell'abbandono più completo. La necessità di realizzare le opere di urbanizzazione, rete fognaria, strade asfaltate e illuminazione pubblica è stata ribadita in più occasioni dagli operatori commerciali, ma a quanto pare non è stato fatto niente per migliorare la situazione in questa importante zona della città, che ha avuto la fortuna di realizzare un nuovo capannone nell'agglomerato M dell'Asia e sono tanti, e è costretto a segnare il passo perché la zona è ancora impraticabile. L'ASI, da cui dipende la struttura, si è limitato solo a coprire un centinaio di botole lasciate aperte e che costituivano un serio pericolo per gli automobilisti, mentre il resto è ancora tutto da fare. Il problema è stato più volte sollevato dal presidente della CNA de Lentini e Carlentini in un censo russo, ma nessun intervento concreto è stato mai attuato. Potrebbe rappresentare una grande occasione di rilancio dell'economia locale la riapertura della questione della ricostruzione a Carlentini. La legge prevedeva finanziamenti in favore dei proprietari delle case inserite nei cosiddetti cassoni, soldi però mai impiegati. Il sindacalista della UIL di Carlentini, Nino Foti, ritiene che vi siano perciò ampi margini d'azione. Per questo ha ottenuto un incontro con il sindaco Sergio Monaco, che si è subito mostrato sensibile alla problematica. I fatti sono questi. A Carlentini si è costruita macchia di leopardo. Nel caso dei cassoni o condomini orizzontali, questo potrebbe avere indebolito la staticità degli edifici non ricostruiti. L'articolo 5 della legge sulla ricostruzione, nonché il successivo decreto del gennaio del 1996, stabilivano chiaramente che la ricostruzione doveva invece riguardare per intero le unità immobiliari e che l'erogazione del contributo dovesse essere effettuata d'ufficio. Riaprire il rubinetto dei finanziamenti, afferma Antonino Foti, significherebbe nuovo sviluppo, lavoro per i giovani e per l'indotto, ma soprattutto un atto di giustizia nei confronti di chi ha tutto il diritto di abitare in una casa sicura.